Musica Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati qui nei nostri studi per un nuovo speciale. Siamo qui per presentarvi un'iniziativa che avrà luogo il prossimo 29 maggio, organizzata dall'Associazione Amici di Vittorio Veneto. Per parlare di questa iniziativa, che ve lo preannuncio, sarà un convegno dedicato ai borghi storici, abbiamo qui in studio Maria Grazia Gottardi, presidente dell'Associazione Amici di Vittorio Veneto, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti, buonasera a te Federico. Allora, siamo qui, dicevamo, per l'occasione, quella di presentare un convegno. Ma prima di entrare proprio nel vivo di questa iniziativa che avete deciso di promuovere in questo momento, e noi, come vedete, in questo periodo stiamo cercando anche di promuovere quelle poche iniziative che stanno timidamente ripartendo dopo un lungo periodo di stop forzato, e prima di parlare di questa iniziativa, dicevo, vorrei che tu raccontassi ai nostri telespettatori che cos'è l'Associazione Amici di Vittorio Veneto, un'associazione che porta il nome della nostra città proprio all'interno della sua denominazione. Che cosa fa e che cosa ha fatto in questi anni? Beh, l'Associazione Amici di Vittorio Veneto è un'associazione culturale che nasce più di dieci anni fa su un progetto, un'idea di Dario De Bastiani, insieme ad altri concittadini vittoriesi, con lo scopo di far conoscere la storia e la cultura della città di Vittorio Veneto, ma non nell'aspetto in cui noi tutti o maggior parte crediamo come luogo in cui avvenne la fine del conflitto bellico, ma con tanti altri aspetti, altri aspetti che riguardano personaggi illustri vittoriesi, l'aspetto storico, culturale e paesaggistico. In tutti questi anni ci sono state fatte molte iniziative. Per prime, quando io ancora non c'ero, non ero ancora, facevo parte di questa associazione, il primo evento che è stato fatto è stato su Le Orme di Lorenzo da Ponte, con un viaggio, insieme appunto ai consiglieri di quel tempo, accompagnati dal professor Zagoner, che è uno degli esperti di questo studioso, con un viaggio ripercorso su Le Orme di Lorenzo da Ponte, da Vienna fino a Monaco, dove lì è sepolto anche Minuccio Minucci. Poi successivamente io sono entrata nel 2004 come consigliere e allora facemmo un convegno dedicato al monastero di San Giacomo di Veglia. Poi sono passati qualche anno e il signor De Bastiani mi ha dato questo compito di proseguire con l'attività nominandomi presidente. Tra l'altro ero anche la più giovane allora di tutto il gruppo. Quindi di guidare l'associazione. Di guidare l'associazione, sì. E il primo convegno che feci come presidente dell'associazione fu il convegno su Franco Marinotti nel 2009. Poi nel 2010 andammo in visita a Rams per rendere omaggio a tre nostri concittadini vittoriesi sepolti lì nel cimitero di Bligny. Nel 2011 il convegno su Camillo De Carlo. Poi successivamente abbiamo presentato gli atti su Camillo De Carlo nell'estate del 2011. Nel 2012 il convegno su Francesco Franceschini. Nel 2013, sempre in ricordo di Francesco Franceschini, abbiamo fatto questa iniziativa coinvolgendo anche l'associazione del coro Col di Lana che ci ha accompagnato anche in altri eventi successivi e dedicamo appunto la lettura e la riflessione sui vari articoli della Costituzione nel Museo del Cenedese. Poi presentammo gli atti di quell'incontro con un concerto della Costituzione nel 2013 a dicembre nel teatro di Lorenzo da Ponte. Nel 2014 invece abbiamo voluto dedicare un po' nell'aspetto artistico ai vari pittori vittoriesi in occasione della festa di San Valentino. Quindi un incontro, il San Valentino visto nell'arte dai vittoriei, dai pittori locali fino ai pittori internazionali. Allora con il coinvolgimento della professoressa Lorena Gava che in quell'incontro appunto spiegò le varie opere artistiche. Poi siamo nel 2015, 2015-2016 sempre con la collaborazione del Coro Col di Lana e con il poeta e dottor Massimo Neri organizziamo uno spettacolo in un primo momento nel Museo della Battaglia una replica poi l'anno successivo nel 2016 il teatro da ponte. Nel 2017 abbiamo presentato gli atti del convegno di Francesco Franceschini. Nel 2018 è stato abbastanza ricco perché c'era anche la ricorrenza del centenario per cui abbiamo fatto un primo evento coinvolgendo anche l'Associazione Ana degli Alpini e l'Associazione Culturale Giovane Europa che abbiamo presentato la mostra delle antiche mappe a Palazzo Todesco. Dopodiché abbiamo fatto una gita a Tor Viscosa e ad Aquileia per ricordare il nostro concittadino Franco Marinotti che finanziò gli scavi di Aquileia e lì Aquileia sepolta la mamma del miletegnoto Maria Bergamas e quindi anche ricordare in quell'anno anche queste figure femminili che sono state attrici anche in questo momento così triste che riguardava appunto che riguarda la nostra storia italiana e quindi un ricordo a Maria Bergamas abbiamo portato de posto una corona di fiori e poi lì sono sepolti gli altri 11 militi militi ignoti e dopodiché abbiamo fatto un altro incontro ad ottobre per ricordare un viaggio a velo dastico per ricordare il luogo dove fu ferito Brando Brandolini un altro nostro concittadino vittoriese e in quell'occasione proprio anche quel luogo è il luogo dove amava recarsi il poeta Antonio Fogazzaro e l'anno successivo quindi nel 2019 dedicamo un convegno alla figlia Maria Fogazzaro che molti purtroppo non conoscono e è stato un modo di ricordare anche lei che ha vissuto molto tempo qui nella nostra città poi insomma dire quello che abbiamo fatto dovremo rispolverare tutti i nostri archivi o comunque ci sono fortunatamente gli atti gli atti del convegno che restano a ricordo di questo ecco allora Maria Grazia Gottardi ci ha fatto una panoramica molto molto ampia di praticamente quasi tutte le attività che sono state svolte in questi ultimi anni segno che appunto la vostra mission come direbbero insomma quelli bravi è di organizzare degli eventi che vadano a ricordare a valorizzare delle figure che magari si vanno un po' perdendo figure illustri per la nostra città ma anche non solo per la nostra città quindi questa diciamo è un po' la vostra appunto il vostro obiettivo che avete deciso di perseguire in questi anni e che state continuando a perseguire giusto? certo sì allora veniamo all'appuntamento del 29 maggio dicevo prima un convegno un nuovo appuntamento in presenza online ma insomma è bello poter vedere anche delle persone in un luogo adesso ci dirà dove Maria Grazia Gottardi con un tema particolare che riguarda i borghi storici allora Maria Grazia raccontiamo un po' la genesi di questo evento del prossimo 29 maggio diciamo che l'idea di organizzare un convegno sui borghi storici è nata due anni fa è maturata due anni fa tant'è che doveva essere svolta l'anno scorso a maggio del 2020 ma poi per ovvi motivi del covid abbiamo dovuto spostarla e posticiparla appunto a quest'anno al 29 maggio la prossima settimana e naturalmente questo ci ha complicato un po' nel senso che abbiamo dovuto rimodulare tutto riprogrammare tutto in funzione anche ai nuovi ai nuovi regolamenti di contenimento dell'epidemia e quindi non sarà più in presenza ma in modalità webinar ma poi anche abbiamo dovuto rivedere anche l'organizzazione dell'intero convegno perché inizialmente doveva basarsi su due parti la prima parte è dedicata al borgo in senso generale dal suo punto di vista sociale economico e architettonico e la seconda parte per scendere nello specifico nello studio della rivalutazione dei borghi urbani e periferici di Vittorio Veneto con l'intento però l'obiettivo di mettere in luce quelli che sono i valori sottesi al recupero dei borghi storici che trova la sua dimensione più profonda nella valorizzazione sociale e culturale ed esperienza di vita prima ancora che quella di riqualificazione urbanistica edilizia e il convegno appunto avrà questo taglio fondamentalmente non potendolo fare prolungarlo di molte ore perché appunto stancherebbe l'ospettatore verrà ridotto quindi ridotto nei tempi e quindi dovremmo sviluppare soltanto la prima parte la parte quella iniziale quella del borgo visto nel suo aspetto diciamo generale però io ci terrei a dire che l'idea di fare i borghi storici nasce da un pensiero di un nostro concittadino che ho citato anche prima che era l'onorevole Francesco Franceschini perché fu lui a ideare e realizzare un ministero a tutela di beni culturali e noi vogliamo proprio perseguire seguire questo suo pensiero e io amo pensare che Francesco Franceschini nel ideare questa commissione per la tutela dei beni culturali si ispirò a guardare e ammirare la nostra città le nostre colline moreniche che circondano la nostra città i palazzi bellissimi palazzi di Ceneda di Serravalle e anche i nostri borghi storici e quindi partiamo appunto da questo concetto se pensiamo che l'Italia è fatta da tantissimi borghi da nord al sud della penisola troviamo tanti borghi a volte sono abbarbicati in cima delle montagne che non sappiamo neanche come hanno fatto costruire queste case in questi punti così anche pericolosi e ci sono tantissimi borghi rinascimentali medievali anche rurali che meritano di essere rivalutati e rigenerati per anche per un punto di vista anche sociale e culturale ma io ad esempio sono nata in un borgo nel borgo qui a Ceneda in via Alfieri e ho trascorso la mia infanzia in questo piccolo borgo dove si entrava attraverso un portico e le case sporgevano tutto attorno a questo cortile e lì in questo cortile si svolgeva la vita sociale la vita anche ricreativa ludica i bambini giocavano in questo cortile in mezzo c'era un gelso e le donne a volte si riparavano sotto l'ombra mia nonna soprattutto a lavorare a ferri i bambini a volte studiavano e là si può dire che era la nostra didattica a distanza e quindi tutto la vita si alternava in questo piccolo nucleo però avevamo anche molti servizi perché avevamo vicino a poca distanza c'era il bar c'era un negozio di genere alimentare e c'era anche l'asilo l'asilo Manzoni quindi avevamo tutti i servizi di prima necessità ma quello che emerge soprattutto in questi piccoli nuclei abitativi in questi piccoli borghi c'era un legame tra le famiglie un legame così d'aiuto e di solidarietà quella solidarietà che Emir Durkheim che è uno dei più grandi sociologi dell'Ottocento definiva come solidità solidarietà organica cioè quella solidarietà che fa sì che ti rendi consapevole di far parte integrante di una comunità di uno scambio reciproco di aiuto e di un sistema organico che è appunto la società stessa ed è su questo diciamo pensiero che noi vogliamo trasmettere attraverso questo incontro culturale il senso della valorizzazione del borgo che deve essere prima di tutto avere uno studio lo studio Belborgo nella sua visione olistica in una visione completa basata soprattutto sullo studio sociale economico culturale e poetico laddove noi possiamo trovare anche un punto di ispirazione di pace di riflessione all'interno appunto di un ambiente che dal punto di vista antropologico c'è un legame relazionale tra ambiente e vita sociale e questo è quello che vorremmo trasmettere non solo anche in modo anche particolare di valorizzare questi luoghi che sono stati abbandonati sono stati abbandonati e che spopolati e che sono rimasti come delle scatole vuote allora io penso anche perché costruire dei condomini o ripilanti quando abbiamo già di luoghi dove poter far rinascere perché far rinascere anche certi borghi borghi rinascimentali o mediovali vuol dire anche fare rigenerare e rivivere una civiltà una civiltà una civiltà che fa parte del nostro passato della nostra cultura millenaria della nostra storia italiana certo certo allora ci diceva dopo la presentazione di questo convegno ci diceva giustamente Maria Grazia Gottardi che appunto per le norme ancora anti-covid eccetera eccetera avete optato per la modalità webinar quindi la diretta sarà dall'aula civica del museo della battaglia quasi tutti i relatori saranno lì forse ci sarà qualcuno in collegamento e ci sarà la possibilità di fruire online appunto dell'intero convegno sui canali della tenda tv quindi noi ci siamo diciamo messi a disposizione dell'associazione amici di Vittorio Veneto perché crediamo in questa iniziativa e quindi ci sarà la possibilità di seguire in diretta tv a Vittorio Veneto sul nostro canale del digitale terrestre ma anche sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale youtube quindi come di consueto come mandiamo in onda tutte le nostre dirette chiedo a Maria Grazia Gottardi di in estrema sintesi presentarci il parterre degli ospiti che interverranno in questo convegno dedicato alla rigenerazione dei borghi storici come relatori ci sono appunto delle persone di un alto livello culturale competenti in questo in questo ambito e ci sono con un pizzico anche di orgoglio ci saranno due vittoriesi di cui il coordinatore il quale vorrei anche fare un ringraziamento pubblico dell'avvocato Bruno Barrel che è un nostro amico amico dell'associazione che ci sostiene nelle nostre iniziative e che farà un po' da moderatore sarà più che un convegno un incontro un incontro uno scambio di esperienze di vita e un relatore un altro nostro concittadino il relatore l'architetto sarà come relatore l'architetto Franco Posocco che tutti conoscono urbanista guardiangrando della scuola grande di San Rocco di Venezia poi ci sarà Danilo Cerotto Gerotto architetto creativo dirigente del comune di Venezia Massimiliano Monetti presidente delle confe operative d'Abruzzo Livio Scatolin coordinatore nazionale dell'associazione Borghi Più Belli d'Italia e Fernando Tomasello architetto vicepresidente dell'Unione Nazionale delle Proloco questi sono appunto i relatori che ci accompagneranno in questo incontro e se mi permetti Federico io vorrei anche ringraziarti pubblicamente per il servizio che fai per la nostra città e per tutte quelle persone che magari quel giorno non potranno seguirlo in diretta ma lo potranno seguire in un altro momento ed io credo che sia un grande valore per la nostra città avere una una tv che possa proiettare tutte le nostre gli eventi che fanno tutte le varie associazioni e vari eventi in generale ma soprattutto perché attraverso questo mezzo tu hai potuto non solo nel periodo della pandemia ma io credo anche in tutte quelle persone che non possono muoversi per motivi di salute o motivi fisici che la tv la tenda sia una vera compagna e una vera dama di compagnia per tutte quelle persone che sono sole troppo buona troppo buona grazie no no grazie adesso a parte gli scherzi noi siamo amici dell'associazione amici di Vittorio Veneto da da molto tempo con molto piacere e ci fa piacere ovviamente dare visibilità alle iniziative che vengono realizzate di anno in anno che prima Maria Grazia ci ha elencato allora mi pare che abbiamo dato tutti gli elementi insomma necessari per intanto far sì che i nostri amici si segnino sul calendario forse non abbiamo detto l'orario sabato 29 maggio alle ore 10 quindi col convegno il valore sociale culturale economico e poetico della rigenerazione dei borghi storici però prima di chiudere so che contestualmente voi avete lanciato anche una sorta di concorso fotografico chiamiamolo così che riguarda proprio i borghi perché Maria Grazia ci diceva poc'anzi lei è nata in un borgo tanti di voi telespettatori che ci state vedendo se siete nati qui nel territorio nostro siete nati all'interno di alcuni borghi e quindi alcuni sono dei luoghi anche nascosti molto spesso e quindi che cosa avete deciso di fare? Noi abbiamo deciso di fare questa balle iniziativa di sempre in collegamento con il tema di borghi di promuovere un concorso fotografico ovviamente a livello amatoriale per stimolare le persone a andare alla ricerca di questi borghi e anche io ho scoperto che ci sono tantissimi borghi bellissimi in tutto il territorio vittoriese e dove qualcuno si è anche riconosciuto la propria casa la propria casa dove ha vissuto dove ha vissuto i suoi genitori o i nonni ma la cosa curiosa è anche capire la storia di questi borghi a volte anche il nome l'etimologia del nome che porta questo borgo che generalmente sono quasi tutti che portano il borgo del capostipite della famiglia oppure il borgo olivi perché lì c'erano degli olivi coltivavano gli olivi oppure alcuni borghi dove in origine c'erano dei monasteri quindi è una riscoperta non solo paesaggistica ma anche storica e culturale ed è questo il messaggio che noi vogliamo dare e le fotografie che manderanno tutti coloro che parteciperanno a questo concorso verranno poi selezionate verranno trasmesse quel giorno dalla tv la tenda e poi in un momento successivo verranno verrà premiato le foto migliori e verranno poi presentate in una mostra fotografica che faremo in quell'occasione premeremo anche il vincitore quindi c'è ancora qualche giorno per scattare insomma tempo permettendo per trovare l'inquadratura giusta e quindi potete partecipare anche voi che ci state vedendo a questo concorso fotografico sui borghi magari quelli che meglio conoscete più vicini a casa vostra eccetera ultimi istanti di trasmissione per invitare allora i nostri telespettatori anche a seguirci il 29 maggio alle 10 vi aspettiamo tutti sabato 29 maggio alle ore 10 sarà in collegamento con l'aula consigliare del museo della battaglia una bellissima un bellissimo salone tra l'altro siamo in mezzo alla cultura e vi aspettiamo per così voi potete affacciarvi virtualmente a vedere tutte queste belle immagini e questa bella storia di tutti i borghi i borghi che fanno parte della nostra storia io ringrazio Maria Grazia Gottardi presidente dell'associazione Amici di Vittorio Veneto per essere stata qui nei nostri studi per presentare questo appuntamento e a mia volta vi rinnovo l'invito per il 29 di maggio alle ore 10 e lo ripetiamo saremo in diretta con questo bell'appuntamento culturale grazie a tutti voi per averci seguito appuntamento alla prossima grazie a voi grazie a tutti